Ma, ma, è cambiato? Oh mio Dio! Che sta succedendo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ragazzi si è chiuso su! Oh mio Dio! Flowey livello 1999 Ragazzi questa cosa è inquietante all'inesima potenza Ho dovuto bloccare il video perché si è si è bloccato e adesso Flowey 1999 mio mondo continua e sembra impazzito Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cosa cazzo è successo? Ragazzi io c'ho paura Puttara santa! Oddio! 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 Salve! Salve! Oh mio Dio! Ragazzi io mi sto facendo mi sto cagando in mano seriamente Cosa cazzo ha fatto questo psicopatico? Io sono Flowey! Flowey il fiore! Sono molto gattito Sono molto grato le hai suonate bene a quel vecchio idiota senza di te non avrei mai potuto batterlo ma ora col tuo aiuto è morto e io ho preso le anime umane oh signore dio ragazzi sono stato vuoto così a lungo stato vuoto così a lungo cosa intendi dire? fai un bel effetto a vedere di me fa un bel effetto a vedere di nuovo un'anima dentro di me le sento che si contorcono ti senti lasciato fuori vero? no sei solo inquietante beh proprio perfetto dopo tutto solo sei anime me ne serve ancora una oh cazzo io sono rientrata nel gioco prima di diventare dio e poi con i miei nuovi poteri e poi con i miei nuovi poteri mostri umani tutti quanti mostrerò a tutti loro il vero senso di questo mondo oh signore dio oh dimenticati di scappare per nel tuo vecchio salvataggio e come faccio poi? se ne è andato per sempre ma non preoccuparti il tuo vecchio amico ha trovato un sostituto per te salverò io sulla tua morte dio mio quanto inquietante così mi vedrà ridurti in tanti pezzettini sanguinati ancora e ancora e ancora la sto facendo bene sì cosa? pensi davvero di poter fermare me? sì sei davvero un idiota oh santo cielo ragazzi che epicità non ho avuto neanche tempo di cos'è questo? io dovrei dovrei finire un gameplay vabbè va bene vabbè d'accordo prego non c'è problema salve ciao psicopatico ma che cazzo cos'è sei una pianta cos'è una pianta vagina mio dio ok sto morendo sto morendo come cazzo faccio a salvarmi ok sono morto sono morta e adesso è tutto solo un brutto sogno e tu non ti sveglierai più oh mio dio oh mio dio oh mio dio salve bene gente aiuto aiuto ciao stronzo sei simpaticissimo come tuo solito pensavi davvero che sarei stato soddisfatto di ucciderti solo una volta in realtà io ho deciso di tornare quindi non scassare la minchia fiore psicopatico allora l'unica cosa che possiamo fare è cercare di di scansare perché non c'è nessun comando dobbiamo capire bene come riuscirci sarà difficile ma dobbiamo provarci io starò zitta come le altre cose perché se no non mi concentro alla fine ragazzi ve lo dico subito controllati sì ciao psicopatico ciao sei simpaticissimo sì sì ridi ridi mio dio mio dio micchia devo resistere devo resistere deve esserci qualcosa a un certo punto no warning warning cosa warning cosa oddio 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 ti prego aiuto che sta succedendo aiuto aiuto merda oddio vedo qualcosa di bellissimo lì vai sì ho chiamato aiuto cosa 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 succede sì ti aiuto ti ringrazio ti ringrazio tutti quanti grazie 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 sì oh aiuto 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 devo scappare devo scappare via 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 aiuto 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 cosa warning che succede aiuto 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 merda ricolloni sì morire morire praticamente sono una cretina chiama aiuto cazzo chiama aiuto sono morta ciao da dove riparte dai coltelli no riparte da qua non è così difficile allora se è così come penso aiuto aiuto hai chiamato aiuto sì ti ringrazio ti ringrazio aiuto sì ti ringrazio merda merda via 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 stai salvato aiuto 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 warning cosa un'altra anima vai aiuto aiuto merda aiuto 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 sì ti ringrazio ti riprego riprendimi tutto 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 vai ce l'abbiamo fatta forza via via ok cos'è quella cosa sono delle mani con dei di 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 via via cosa vogliono sti cosi warning viola vai ok il donati mondo molto morte con sacro incubo realtà sì ho solo una possibilità devo stare attenta vai 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 chiama hai chiamato aiuto vai sì successo libertà sollievo vai no merda file ricaricato questo ricarica il file e mi sposta di volta in volta pensavo allora con calma ce la possiamo fare su forza ok cos'è quella roba oddio no 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 hai chiamato aiuto yeah sì vai non mi uccide sì frittelle vai frittelle frittelle aiuto intanto parte il coso aiuto ma non finirà mai questa cosa non ce la farò mai se continuo così ok giallo giallo quanto cavolo durerà questa cosa ragazzi cos'è cos'è vai hai chiamato aiuto aiuto merda non ripreso non ripreso niente che sta succedendo cosa sta succedendo cosa sta succedendo che succede che succede grazie sono tutte le anime sono tutte le anime che ha assorbito praticamente grazie grazie ragazzi grazie che cosa bellissima e la difesa la difesa di flower scende di zero come mai le anime si sono ribellate caro mio vai attaccalo vai lotta bravo vai qualsiasi cosa tu sia via vai attaccalo e tu come ti salverai sto vai 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 sto stronzo vai vai prendi questo vai vai vivi qua vai 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 così si fa vai 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 che ci siamo quasi dai vai ce l'abbiamo fatta ragazzi pensavo peggio ma ce l'abbiamo fatta vai vai peccati questo no no si cattivo di merda non può essere tu fai ricaricato razza di idiota ma quello è un meme sono morto fai ricaricato fai ricaricato fai ricaricato no 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 figlio di puttana pensavi davvero di potermi sconfiggere sì in realtà sì io sono il dio di questo mondo e tu un piccolo cuoricino indifeso che ti metterà un che guarda maledetto è tale madonna mia prenderò il tuo stelo e te lo ficcherò da qualche parte per chi non lo sapesse lo stelo è il gambo non hai mai non hai scampo solo e senza scampo perbacco è vero i tuoi inutili amichetti non possono salvarti ora chiama aiuto ti sfido piangi nel buio mamma papà aiutatemi non ho ma per favore dai vediamo che ti che ti frutta che ti frutta ah ok non la frutta agisci hai chiamato aiuto vediamo un po' che succede? ma non venne nessuno ragazzi che vergogna nessun altro ti guarderà morire scusatemi mi piace la risata malefica spero di averla fatta bene maledetto bastardo che tu muoia aiuto aiuto Toriel ah sei rimasto a bocca aperta cos'è successo di bello? cosa? come hai? beh basterà caricamento fallito hai problema con i circuiti tesoro? o con i codici? dove sono i miei poteri? le anime? cosa fanno? si sono un po' incazzate no no vai va andate ragazzi pestatelo per bene dovrebbero obbiedirmi basta smettetela basta e non è così bello far soffrire quando si soffri tu no? stupido fiore maledetto bella decisione allora fino ad ora ho risparmiato tutti ma si può risparmiare il risparmiabile? con dopo tutto quello che ha fatto? lo risparmiereste? dopo quello che ha fatto a Drelmour? è difficile è difficile è difficile ho comunque fatto una run neutrale quindi non posso farci niente alla fine non lo lascerei comunque in vita però lui magari possiamo costringerlo a riportare tutto al normale? non credo non credo proviamo a vedere davvero non so cosa fare ragazzi vi giuro tra l'altro pensavo che sarebbe durata un pochettino di più in realtà è stato abbastanza semplice come cosa nonostante tutta la marea di attacchi che mi ha dato non posso semplicemente mandarmene non so veramente che cosa fare ok quello che farei io sinceramente è ucciderlo addio sapevo che ne eri capace per difendere chi amo sì vattene via vattene via per sempre è un normalissimo fiore è finita così? ma siamo all'inizio? ok questa cosa è strana non so se ho fatto la scelta giusta ragazzi però non me la sentivo di lasciarlo in vita dopo tutto quello che ha fatto sinceramente ok adesso che succede? è finita così? by toby fox se si è finito così ragazzi né più né meno che così immagino di aver beccato il finale neutrale sostanzialmente perché ci sono dei ok va bene allora vediamo vediamo un po' se c'è qualcos'altro dopo i titoli di coda per sicurezza dream dream oi là c'è nessuno? ah ma come hai fatto tu a avere il mio numero di cellulare? beh io lascio un messaggio allora ne è passato di tempo la regina è tornata e ora governa il sottosuolo ah questo è il vero signifinale ah quindi adesso è Toriel a governare tutto ha stabilito una nuova politica tutti gli umani che cadono qui verranno visti come non come nemici ma come amici comunque probabilmente è meglio così le anime umane raccolte dal re sembra siano sparite probabilmente sono finite da qualche parte quindi quel piano non si realizzerà molto presto ma anche se la gente ha il cuore infranto per il re le cose si mettono male per la nostra libertà e le cose si mettono male per la nostra libertà scusatemi la regina fa del suo meglio per non farci perdere la speranza quindi ehi se noi qua giù non ci arrendiamo tu dovresti solo ringraziarmi perché secondo me tu aspettavi semplicemente che tipo Ginevra che Re Artù sparisse ecco non ti arrendere ovunque tu sia ok chissà quanto tempo ci vorrà ma usciremo di qui Sans con chi parli oh nessuno cosa nessuno posso parlarci anch'io ecco stenditi stenditi vabbè ok un secondo riconosco questo numero ehi umano come stai io benone io ho cercato di contattarti 60.000 volte però vabbè fa niente beh a parte una cosa la regina ha sciolto la guardia reale visto che non dobbiamo più combattere umani non si sa mai però magari tenerla nel caso ci fossero fiori psicopatici no eh Toriel va bene fantastico stiamo a posto wow non ho iddio di cosa fare nella mia vita ma non fa niente perché mi do ancora da fare bravo così Papauros anche se non si tratta di niente se non si tratta di niente quindi non sentirti in colpa Papauros sta bene quella messa male è Adney ha perso il posto e ha perso la casa è stato triste ma ci occupiamo noi di lei ora vive sul nostro divano povera mi dispiace Dio ogni notte è come un pigiama party un pigiama party da cui non c'è fuga oh e le abbiamo dato un lavoro ah beh allora pensavo fosse peggio sinceramente Sans l'ha assunta al suo banco di hot dog odia lavorarci ma fa hot dog da capo o fa hot dog da paura oh già continuo a biasimarmi a biasimarti per la scomparsa di Asgore immagino che non le sia piaciuto mi parla un sacco del vendicarsi di te ha un piano assurdo di attraversare la barriera e picchiarti e a essere onesti credo sia impossibile ma vorrei credere che non lo sia perché voglio andare con lei allora potrei vederti anche se dovrai combatterti beh tieni le dita incrociate e tieniti in contatto renderai i nostri piani più facili sì sì certo tranquillo papyrus lo farò di sicuro ciao clic nessun altro nessun altro vuole sentirmi anticamente due razze dominavano la terra ah da capo tutto da capo che succede se faccio continua ragazzi secondo voi vabbè lo scopriremo nella prossima parte va bene dunque ragazzi con questa schermata finiamola qui dunque d'accordo siamo giunti alla fine di Undertale ragazzi abbiamo fatto praticamente il finale neutrale molto probabilmente ora non so se fare o meno la Pacific Room run scusami Pacific Room vabbè Pacific Room o la Genocide Room perché dico room alcoolizzata è un alcoolizzata no non lo è semplicemente è un po' spastica e dislessica dunque niente allora impressioni su Undertale dunque allora molto brevemente perché siamo comunque a 21 minuti di di gameplay il gioco secondo me è stato veramente bello davvero bellissimo la trama di base è molto semplice quella di di Dremor dell'umano caduto e tutto il resto però è comunque abbastanza buona ben fatta e comunque ci sta ci sta l'importante è che in un gioco la trama ci stia e non sia una cosa che faccia talmente sembrare tutto ritrito e ritrito tutto qua per quanto riguarda invece il gameplay ragazzi non so che dividi praticamente sono anni che ci sono videogiochi di tripla A che cercano di che cerchiamo comunque in cui cerchiamo di trovare magari qualcosa di nuovo di diverso in cui si gioca in modo diverso ci sono delle meccaniche diverse per una buona volta abbiamo veramente un gioco in cui ci sono delle meccaniche diverse a partire dal modo in cui ci si difende evitando i proiettili come il cuoricino a partire anche dal modo vabbè no forse il modo in cui si attacca mi ricorda qualcosa ad essere sincera però ci sta anche quello per non parlare poi dei dialoghi del modo in cui diciamo rompono la quarta parete ecco la quarta parete che sarebbe il fatto che parlano con noi il momento in cui Flowey ha fatto crashare il gioco e tutto il resto è stato stupendo e molto inquietante ed è stato uno dei momenti migliori va bene ragazzi ora questo è per farvi capire quanto mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tantissimo non so ve l'ho detto se fare la seconda run con voi o in solitaria facciamo così decidete voi nei commenti fatemi sapere facciamo una piccola votazione magari anche su facebook per quanto riguarda tutto il resto niente se potete ragazzi dovete assolutamente farlo giocare a qualcuno diffondete il verbo per dirlo così perché trovo che come dicevo tanto come dicevo prima scusate come dicevo prima ci sono tanti giochi di AAA che ripropongono sempre le solite meccaniche questo per una buona volta le stravolge e le rinnova un pochettino questa cosa è davvero molto buona non è esente da difetti però no ci sta ci sta è stato davvero un bel gioco mi è piaciuto veramente molto dunque finiamola così dunque se vi è piaciuta questa parte lasciatemi un mi piace un commento iscrivetevi al mio canale e vi farò sapere quale sarà se non faremo un'altra run il gioco che sostituirà Undertale d'accordo yao ragazzi è piaciuto Grazie.